ciao a tutti ragazzi e ben ritrovati a questo nuovo episodio dell'invictus podcast io come sempre sono il vostro host nicolò liani e questa settimana ho un ospite di eccezione che ringrazio subito ovvero francesco ragone grazie mille francesco per essere qui sul canale grazie a ottimo allora in compagnia di francesco tratteremo un argomento che diciamo abbraccia sé tanti altri discorsi che in parte avevamo già trattato anche in altri podcast precedenti cercheremo di analizzare soprattutto attraverso la pratica sul campo che francesco ha potuto maturare negli anni un argomento che riguarda fondamentalmente l'approccio alimentare in un'ottica di ricomposizione corporea poi azzurro questo termine ricomposizione corporea ormai nel 2020 è abusato dal mio punto di vista vediamo anche di che cosa si tratta poi all'atto pratico ricomposizione corporea e vediamo un attimo di capire effettivamente tutti quei soggetti che hanno questo tipo di mira come potersi approcciare in maniera efficace e longeva ad un approccio alimentare sostenibile e congruo a quello che è appunto l'obiettivo ricercato quindi io prima di avviare l'argomento come da tradizione per chi non conoscesse francesco gli lascio la palla per una breve presentazione quindi vai pure grazie allora io rinnovo i saluti e ringraziamento a nicolo per avermi invitato sono un biologo nutrizionista lavoro in torino provincia e principalmente mi occupo di sport spaziando da quelli che sono magari sport con prestazioni diciamo estetiche quello che si richiede l'estetica o sport di performance come può essere uno sport da combattimento il crossfit o anche il mondo nell'endurance faccio questo lavoro diciamo da quando ho 26 anni adesso ne ho 32 purtroppo ne farò 33 prossimo anno quindi diciamo un cinque anni di pratica per fortuna me li posso vantare ottimo perfetto benissimo allora io francesco direi di avviare questo macro argomento perché abbiamo detto che comunque abbraccia al suo interno tante sfaccettature ovviamente non potremo trattarle singolarmente all'interno dell'episodio però voglio anche farti qualche domanda mirata che mi è stata posta anche da da qualche ascoltatore quindi io come introduzione generale darei un attimo quello che è il concetto di ricomposizione corporea io magari do giusto un breve avvio poi ti lascio la palla per ovviamente ampliare il discorso assolutamente allora quello che io solitamente vedo diciamo nell'ambito fitness anche quello che viene molto spesso propagandato non voglio dire quasi sempre per un discorso di marketing però spesso c'è comunque dietro anche questo questo lato il discorso di ricomposizione corporea viene spesso e volentieri passato come un soggetto che attraverso un determinato approccio alimentare in combinazione con un determinato approccio allenante riesce simultaneamente a perdere grasso corporeo e a mettere su massa muscolare ora sappiamo che questa idea di ricomposizione corporea è un'idea che innanzitutto nel breve termine è estremamente difficile da realizzare se non in determinati casi correggimi se sbaglio che sono o per soggetti veramente alle primissime armi che quindi non hanno esperienza soprattutto dal lato dell'allenamento oppure soggetti deallenati quindi comunque che hanno che sono fermi già da diverso tempo e quindi riprendono in mano un certo tipo di approccio sia alimentare che di allenamento oppure per tutti magari quei soggetti che non ci competono che sono soggetti che per scelte loro decidono di fare percorsi alternativi a buon intenditore non aggiungo altro quindi diciamo che invece la ricomposizione corporea che interessa più a noi che è un po sicuramente anche quello di cui ti occuperai tu nella stragrande maggioranza dei casi è una ricomposizione corporea che non vede in sé un processo all'interno del quale avviene sempre e comunque una sorta di appunto perdita di grasso corporeo aumento di massa magra ma è un processo che attraverso delle fasi ben strutturate sul medio lungo periodo ti porta poi a quel tipo di risultato quindi cerchiamo adesso ti lascio ti lascio la palla cerchiamo un attimino di secondo me dare un'idea ai nostri ascoltatori di cosa effettivamente possiamo intendere per ricomposizione corporea oltretutto il discorso pubblicitario che c'è dietro che c'è dietro no no allora assolutamente quello che hai detto è giustissimo è proprio il cuore della ricomposizione corporea in primis bisogna vedere chi abbiamo davanti perché chiunque novizio deallenato comunque parte da una situazione in cui come dire ea un estremo chiamiamolo negativo otterrà subito dei miglioramenti e allora vediamo quei casi di persone che migliorano subito migliorano la massa muscolare migliorano riducono quella che viene chiamata la massa grassa cioè la dipe però parliamo appunto di soggetti che sono neofiti agli stimoli e il nostro corpo qualsiasi cosa facciamo quando ha uno stress uno stimolo nuovo risponde più velocemente su soggetti avanzati come sei tu nell'allenamento in realtà a questi cambi non si vedono più con così tanta velocità e ci metti anche anni a vedere dei risultati il problema del marketing è che la ricomposizione corporea l'ha venduto quasi come se ci fossero le due formule magiche date dall'allenamento dalla dieta e tu in tempo zero ottieni grandi risultati ma come hai detto tu c'è chiusa pozioni magiche come fatto sotto intendere se no in realtà è un processo veramente lungo poi il concetto anche di ricomposizione corporea dobbiamo vedere un'altra cosa che il marketing molto fa e in che ambito lo collochiamo perché è vero che la ricomposizione corporea un miglioramento della massa muscolare una riduzione del grasso corporeo però è stato dilagato in tanti sport dove l'estetica in quegli sport non centra ma l'anno messa mente vediamo adesso i calciatori col fatto che cristiano ronaldo un fisico incredibile ma la base c'è sempre la genetica che infatti le persone dovrebbero capire che noi non possiamo diventare la persona sulla copertina siamo sempre in mano alla genetica possiamo veramente diventare la miglior forma di noi stessi e la capacità chiamiamolo il grosso cambio che possiamo avere a livello visivo è legato nella nostra potenzialità genetica ci sono sport come bodybuilding che ovviamente si occupano di estetica ma altri sport dove la ricomposizione corporea come appunto ho detto prima viene utilizzata un po come marketing cioè si ricerca l'estetica dove invece bisogna solo concentrarsi sulla performance faccio un esempio il crossfit che vuole essere grosso e voluminoso come un bodybuilder quando per ciò che gli è richiesto nelle gra nelle gare un fisico così grosso e voluminoso può essere uno svantaggio o comunque non riesce a fare determinate cose soprattutto quando ci sono lavori prettamente di endurance ovviamente sulla composizione corporea altra cosa che sempre marketing attacca e che si vede spesso pubblicità di grandi cambiamenti di primo dopo stesso anch'io metto il primo dopo ma il primo dopo deve essere un guardate come è cambiato cosa abbiamo fatto sì un modo per pubblicizzarsi ma io dico sempre in maniera sana mentre in alcuni casi c'è proprio un vero e proprio attacco sembra che io l'ho trasformato così perché ho la pillola magica quando in realtà in primis bisogna un attimo capire che è difficilissimo perché vuol dire anche accettare dei limiti di se stessi le proprie potenzialità genetiche se qual è il mio obiettivo se il mio obiettivo estetico io devo fare uno sport estetico e armarsi tanto tanto di pazienza perché se io parto da una situazione veramente disastrata o novizia ottengo subito risultati ma all'inizio quando le persone io spesso vedo tanto cambio ci sono tanti miei pazienti che cambiano quel personal trainer magari bravissimo perché dicono no ma non ottenevo più risultati non è che non ottenevi risultati e che dopo il grande miglioramento iniziale poi il corpo fa sempre più fatica fa sempre più fatica e quando sei un soggetto avanzato è difficile se stai cercando di andare a ridurre il tessuto adiposo mettere su massa muscolare quasi diciamo un controsenso e questo le persone devono capire cioè tirarsi e diventare enorme nel soggetto natural avanzato quindi parliamo di un soggetto che si allena da anni e anni che ha adottato uno stile di vita chiamiamolo idoneo per quello che sta facendo non si vede così facilmente queste sono un po secondo me le lacune che mancano di conoscenze tra le persone e chi come te o come tanti altri professionisti lavora in un determinato modo cerca di trasmettere ovviamente si deve scontrare con la parte del marketing che purtroppo parla di queste trasformazioni per veloci ma il corpo è una macchina perfetta perché si adatta a tutti gli stress più uno stress è presente più il corpo si adatterà sempre di più l'ipertrofia stessa è una risposta a uno stress dato dall'allenamento e anche lì io quando vedo ma anche magari qualche mio collega che parla di dieta della massa qualcosa del genere no un altro parametro su cui bisogna concentrarsi in primis e l'allenamento perché l'allenamento ha veramente un peso importantissimo fondamentale io l'ho provato sulla mia esperienza ho avuto tanti pazienti dove gli ho detto guarda che finché abbiamo questo metodo di allenamento saremo un aereo che vola con un'ala cambiando metodo di allenamento subito si è visto il grande cambio quindi il concentrarsi soprattutto sull'allenamento sull'alimentazione anche il giusto recupero perché poi purtroppo quando si vogliono risultati anche alti che sia estetica o vogliamo parlare di performance che poi sono io che li divido così perché per me uno sport estetica perché la performance la finalità estetica uno sport di performance è una corsa una gara non è che a livello scientifico sono divisi così e per cercare di spiegarmi qualsiasi sia il nostro obiettivo se vogliamo ottenere dei risultati risultati soprattutto alti bisogna sempre più fare gli atleti bisogna sempre più valutare il recupero il sonno la qualità e la quantità dei nostri allenamenti la mia attinenza e la mia complianza a livello dietetico e avere veramente pazienza perché si vedono veramente piccoli piccoli cambi il tutto è subito o si usano metodologie alternative che ovviamente noi non consigliamo o non si non si vede salvo se non arrivate come detto tu da una situazione di puro deallenamento o da una situazione dove c'era da perdere tanti chili muscoli veramente scarsi e il corpo subito sotto questo subito appena noi li diamo questi stimoli nuovi risponde velocemente perché il corpo ha una reazione alli stress molto veloce però poi chiunque vedrà che si arriva a una fase in cui sembra di essere stallati perché appunto i miglioramenti sono sempre 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 più lenti poi noi siamo dei soggetti che ci guardiamo allo specchio ma focalizziamo l'immagine che vediamo nello specchio magari su quelli che sono le nostre perplessità psicologiche come chi magari si è sempre visti anche i grossi la pancetta qui non si accorge del cambio totale che ha avuto della struttura perché si focalizza su quel minimo dettaglio e magari quel minimo dettaglio è proprio l'ultima pietra che andrò a levare e quindi si scoraggia e tutto quanto in realtà quello che dovrebbero fare le persone secondo me è quello che dico sempre io affidarsi a un professionista o un team di professionisti e quando vedono che stanno stallando vedere però cosa hanno fatto prima perché se quei professionisti ti hanno portato da un punto 0 a un punto 8 che hanno dimostrato di essere bravi e se ti dicono che la cosa è normale che i cambi non saranno più così veloci assolutamente da da fidarsi non da iniziare a girare a destra a sinistra come una bussola impazzita perché poi si rischia anche di fare 20 passi indietro quindi per fare una sintesi ricordarsi sempre genetica allenamento il giusto riposo e alimentazione ma ricordarsi che all'inizio ovviamente vedo grandi trasformazioni dopo si fa sempre 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 più fatica ma alla fine fa parte del gioco non è un qualcosa la composizione corporea che la raggiungo e diventa statica l'ho tenuta per sempre è un lavorare continuo perché nel mondo non c'è niente di statico un mondo dinamico quindi un lavorare continuo con progressi sempre minori però si alla fine uno deve avere la mentalità giusta che quello che io apprezzo nel mondo del bodybuilding rispetto alla mentalità di altri sportivi è proprio questa attinenza questa grossa pazienza e l'essere molto grintosi nella caccia del risultato questo composizione corporea ma questo concetto loro si trova secondo me da qualsiasi parte nella vita a un certo punto per migliorarsi si va proprio a migliorare i punti e le virgole è quello tutti all'inizio hanno avuto un grande espload parliamo di qualsiasi sport prendiamo un calciatore sicuramente un cristiano ronaldo messi erano dei fenomeni da bambini ma sono migliorati tantissimo oggi il migliorare le loro prestazioni è veramente difficile è anche difficile capirlo se parliamo di estetica io principalmente quando parliamo di composizione corporea guardo i cambiamenti delle fotografie perché chiedo sempre delle fotografie fronte e retro per chi fa proprio estetica estetica a livello sportivo anche dei video in varie dove si muove magari anche con il classico posing e trend di circonferenze trend di plicometria non sono un amante della bioimpedenziometria dove spesso anche lì vedo sto grande abuso dove si utilizza la bioimpedenziometria o strumentazioni simili per dire tu hai tot massa grassa tu hai tot massa magra quando in realtà secondo me poi ripeto è un mio pensiero tira veramente tanti tanti falsi come risultati e ha una stima di errore troppo alta non è affidabile e lì può essere un demoralizzarsi perché io ho visto persone che su tutti gli altri parametri per monitorare il percorso che ho visto che ho elencato prima miglioravano usciva la bioimpedenziometria ti diceva un meno 4 kg di muscolo più 8 di grasso lì purtroppo perché un'analisi che ha un grosso una grossa stima di errore quindi anche lì sulla ricomposizione corporea e qui poi magari apro anche un tema per delle domande così spero c'è anche questo attaccarsi tanto a quanta massa grassa o quanta massa magra o lì assolutamente io sono anche lì dell'idea quello è un altro modo sbagliato di pensare alla massa c'è alla ricomposizione corporea perché è vero che esistono massa grassa e massa magra ma ad oggi la biopsia forse è l'unica metodica che possiamo utilizzare ma ovviamente direi di non farla su un atleta la densinometria ossea che il gold standard arriva da un 2 a un 5 per cento di errore ed è altissimo perché se io dico a te nicolò se al 10 per cento con un 5 di errore potresti essere al 15 o potresti essere al 5 per cento tu lo sai meglio di me la grande differenza quindi chi della ricomposizione corporea c'è anche questo cercare di venderti la strumentazione che ti parametra i miglioramenti e purtroppo molte di queste strumentazioni non lo fanno le varie bilancine i vari orologi e lì le persone si perdono ma non lo fanno perché la stima di errore grossissima se qualcuno poi va a vedere le formule che ci sono dietro si portano dei margini di errori assurdo sono formule tra virgolette molto forzate e infine non tengono conto della genetica e della struttura del soggetto perché il mio 10 per cento non è quello di nicolò non è quello di mio fratello io potrò avere un accumulo maggiormente localizzato sotto l'ombelico nicolò magari nella schiena quindi anche lì non è una gara sono al 10 sono al 3 perché non vuol dire nulla e nulla serve al nostro seguito è un focalizzarsi se parlo di composizione corporea sull'aspetto visivo circonferenze plicometria anche la plicometria molto difficile richiede una manualità è un'esperienza non da poco e poi la composizione corporea in base a quello che voglio fare perché quella di un bodybuilder non è quella di un calciatore non è quella di un crossfitter non è quella di un powerlifting sperando di aver risposto ovviamente alla tua domanda dove mi sono anche un po' dilungato ampiamente ampiamente no parole sacrosante secondo me sono passati diversi messaggi in ciò che hai esternato che condivido veramente al cento per cento il messaggio più importante è il secondo me la questione anche del del tempo e del livello di avanzamento della persona quindi realisticamente di ciò che ci possiamo aspettare dal nostro percorso di fitness e di appunto ricomposizione corporea quindi quando anche mostriamo un prime dopo quando anche giustamente hai detto tu non mostriamo solamente due foto a confronto banali ma anche tutto l'iter che c'è stato dietro dobbiamo dal mio punto di vista sottolineare il fatto che dietro c'è comunque quasi sempre un percorso sul medio lungo termine cioè ragazzi ci vuole pazienza e come giustamente hai detto tu una volta arrivati a un certo punto non ci possiamo aspettare una percentuale di progresso come avevamo mesi prima l'anno prima i due anni prima cioè è utopistico ragionare in questa maniera quindi anche avere sconforto nel fatto che magari arrivati a un certo punto i risultati sono sempre più infinitesimali ma è la fisiologia del corpo umano che funziona così quindi non possiamo bypassarla a meno che non facciamo altre scelte che poi anche lì arrivati a un certo punto anche lì poi non funziona diversamente quindi no questo questo era assolutamente importante da passare ora come ho detto all'inizio per non magari chiederti allora ti arriva il soggetto x come gli imposti macronutrienti cosa vai a ragionare come vai a analizzare la sua diciamo anche panoramica 360 gradi perché sono cose comunque che avevo in parte già trattato in altri episodi io andrei magari a chiederti un paio di cose un pochino più tecniche sempre ovviamente inerenti alla ricomposizione corporea che spero che i nostri ascoltatori potranno apprezzare primo quesito che ti pongo è se dalla tua esperienza dalla tua conoscenza quando ti si presenta un soggetto oltre che andare a fare un'analisi di determinati parametri tra questi determinati parametri tieni anche in considerazione i morfotipi i fenotipi allora io come tutti nel mio studio mi sono sempre interessato su questa sui tipi corporei perché perché effettivamente nella mia pratica si nota soprattutto nelle donne che ci sono delle conformazioni fisiche chiamiamo strutturali che si ripetono e a queste conformazioni c'è qualcosa che funziona meglio qualcosa che funziona peggio questo perché perché comunque molti geni del corpo umano ma è genetica di base si trasmettono sono quelli lì c'è gli occhi azzurri il colore dei capelli quella fisionomia come noi sappiamo molte strutture visive proprio del nostro corpo sono anche caratterizzanti di alcuni popoli magari parenti cinesi con gli occhi a mandorla anche qui io mi sono sempre chiesto perché mi ricordo proprio che quando ero all'inizio ci fu una grande discussione dove appunto si diceva che questi normotipi erano bro science c'era proprio super cazzole io sono dell'idea che la verità stia nel mezzo ovvero da una parte c'è chi completamente lì denigra dall'altra c'è invece chi cerca di farne marketing perché infatti è pieno dell'allenamento per l'ectomorfo la dieta per il l'endomorfo quelle sono super cazzole assolutamente perché perché noi facciamo sempre l'errore di pensare che l'uomo macchina iper complessa e ad oggi l'organismo che sulla faccia della terra si è meglio adattato ha dominato il panorama quindi per le leggi della sopravvivenza ha dimostrato di essere il più forte perché si adatta diversi climi a diverse situazioni si possa semplicemente semplificare semplificare con un bianco e nero su determinate cose e quindi noi cerchiamo sempre ma anche come la formula del dispendio calorico tutti cercano quella formula che ti dice esattamente a quante calorie sei serve facilissimo purtroppo il dispendio cambia in base al soggetto che è davanti alla sua genetica e alla giornata per citarlo il famoso neatonit come si vuole chiamare è ovvio che se oggi mi faccio 20 mila passi che non è che i passi sono il neatonit è un modo per aumentarlo e ho un dispendio energetico diverso se me ne faccio 5.000 cioè entrano in grosso in gioco tanti parametri variabili nella situazione che mi hai chiesto tu dei tipi tipologie corporee non si può chiudere il corpo umano in tre categorie tu sei così perché ce n'è una svariata il mesomorfo puro forse sarà uno su milione se lo vediamo così come l'ectomorfo o l'endomorfo in realtà c'è un miscuglio di caratteri e molte volte vediamo soggetti che magari sopra sono mesomorfo sotto sono ectomorfo viceversa quindi più che cercare la metodica di allenamento il programma nutrizionale per la tipologia corporea io ragiono molto col paziente che ho davanti cerco di capire innanzitutto sempre di che sport ottica parliamo ma parliamo proprio di ricomposizione appunto corporea quindi finalità è l'estetica io guardo il soggetto che davanti vedo che struttura vedo quali possono essere le sue carenze a livello genetico magari un soggetto che non ha un grosso petto fa difficoltà a mettere massa muscolare sugli arti vedo dove accumula il tessuto adiposo perché ci sono soggetti che lo accumulano principalmente nel girovita altri sulle gambe altri sulla schiena chi è più fortunato lo distribuisce in maniera omogenea e poi man mano nel percorso vedo come risponde banalmente a me più di una volta mi è successo che ci fossero soggetti io sono uno di quelli che fanno una grossa difficoltà a farci uscire fuori l'addominale nonostante vedendoli dici beh questo è il classico soggetto che fa fatica a mettere massa muscolare ma si definisce facilmente invece no mi trovo con gli svantaggi di tutti e due diciamo ma questo perché proprio genetica è una questione di microcircolo è una questione proprio del nostro sistema chiamiamolo stradale di vasi sanguigni e soprattutto una cosa che io ho notato e ho scoperto sulla pratica io avevo notato che avevo un accumulo adiposo delocalizzato cioè si vedeva proprio se andavo anche con la plicometria a prendermi da una parte dall'altra vedevo che da una parte sembrava esserci più grasso rispetto a un altro questo è dovuto dal fatto che ho un leggero bacino extrarotato che non vuol dire che ho il bacino girato così tanti ce l'hanno tu che avrei fatto allenamento avrei visto tante persone con spalle asimmetriche che non sono assolutamente nulla di impeditivo nel allenarsi o nel raggiungere il proprio obiettivo non sto dicendo che chi è così alzi le mani e si buttino un post assolutamente no però sono parametri su cui ragionare nel mio caso ad esempio si farà molta fatica ad andare a definirsi a pulirsi ma non è perché io appartengo una tipologia struttura cioè fisica e mi metti nella categoria a b o c è proprio perché si ragiona sul soggetto e quello che io ho visto è che molti soggetti per definirsi rispondono molto bene all'ipocalorica altri invece rispondono molto bene aumentando quelli che sono gli allenamenti cardio l'intervall training per fare un esempio cioè noi dobbiamo tenere conto si della struttura corporea ma non pensando che questo e questo soggetto risponde così perché ognuno di noi è diverso io posso vedere un soggetto endomorfo che magari mi risponde in maniera totalmente diversa da il libricino venduto dell'allenamento della nutrizione per endomorfo quindi quello che cerco di dire ragioniamo sul soggetto sulla sua struttura ma non lo vedo una volta ok è così proprio vediamo come risponde che finché non gli do quegli stimoli io non so come risponde mio fratello era il classico secco proprio assurdo lui ha una genetica mostruosa ma stesso anche io a vederlo non avrei mai detto perché l'avrei preso per il film il bambino col pigiama a righe per dire era proprio magrissimo lo vedevi in realtà adesso c'è un fisico un potenziale impressionante veramente uno che cresce portando le buste della spesa mette su massa muscolare in maniera incredibile a vederlo così sembrava la classica struttura di quello che si si definisce facile ma permettere massimo scolare devi ma il classico skinny fatte proprio il problema qual è è che ci sono sì dei caratteri che ci possono aiutare tutto quanto ma non devo pensare al ok tu hai questo fisico allenamento di età assolutamente devo sempre ragionare dal punto di partenza fino a dove sto arrivando perché a me molte volte mi capita poi io quando un paziente davanti non è che dico ok inizio così e continuerò sempre così perché tu hai questo fisico e risponderai così inizio col primo attacco poi mi piace monitorare molto i miei pazienti e vedere come rispondono ma per capire proprio le loro potenzialità perché abbiamo il soggetto che si finisce facilmente quello che aumenta massa muscolare facilmente ce ne sono tantissimi e poi cercare con l'allenamento dove io ora personalmente non me ne occupo perché ho delegato a dei personal trainer con cui io collaboro molto bravi cercare anche lì di dare le chiavi di svolta e qui mi ricollego sul fatto che l'allenamento è fondamentale ma quando dico chiavi di svolta non perché c'è l'allenamento per quel tipo corporeo perché poi non trascuriamo la parte psicologica non trascuriamo tutti gli altri stress la vita sociale tutto quanto io faccio il mio esempio sono un soggetto che se non lavorassi ora qualcuno dirà vabbè grazie al cavolo se non lavorassi come biologo nutrizionista che non è faticoso a livello fisico ma a livello mentale veramente stressante potrei tranquillamente tempo permettendo riuscire a gestire una frequenza di allenamenti di doppie sedute anche di un'ora e mezza e perché ho la parte di recupero ma dove mi stanco molto a livello mentale e questo incide tantissimo perché se io sono un soggetto che in una condizione dove lo stress mentale non è forte riesco a ottenere ottimi risultati a calorie più alte riesco a tenerti quella mole di allenamento rispondo bene a quella sessione a quel programma dietetico quando entra questo parametro stressante in più che è la mia vita ovviamente c'è un cambio totale io non tengo più quegli allenamenti faccio fatica devo ridurre bisogna cambiare altre strategie magari lavoro meno sul volume più sull'intensità di carico a livello dietetico faccio un esempio abbasso molto di più i carboidrati perché ovviamente uno dirà beh ti alleni anche di meno senza dubbio ma è proprio il fatto che il problema di arrivare a stressarmi così tanto mi porta un cortisolo alto nel cronico che ho anche verificato con l'analisi del sangue che non mi permette una migliore gestione dei carboidrati che potrei avere in situazioni ovviamente diciamo di relax per questo poi c'è una un sonno disturbato che molte volte arriva cioè quello che io faccio in una situazione a è totalmente diverso da quello che faccio in una situazione b e quello è per farvi capire proprio perché bisogna analizzare sì il soggetto la struttura cosa fa ma tanti tanti parametri questo è un lavoro io lo vedo molto come una partita scacchi a scacchi non c'è la strategia vincente non c'è a scacchi ci sono strategie che per vincere sacrifichi la regina per chi gioca il pezzo più importante è un ragionare sulle cose sui quattro cinque concetti che le vigenze le evidenze scientifiche ci danno e non credere ovviamente alla pillola che sia dell'allenamento della nutrizione che mi salva perché io ho quella struttura fisica o perché io sono biondo perché c'è i capelli castani assolutamente quindi per finire sulle tipologie corporee io dico sempre no all'estremismo di chi dice dieta allenamento per quella tipologia scorporea no a chi dice no non devi guardare non serve a niente la verità sta nel mezzo non bisogna mai estremizzare ecco ottimo quindi diciamo che è comune vedere il soggetto e magari farsi già una prima idea di come potenzialmente potrebbe essere strutturata e programmato il lavoro poi è tutto da ridefinire in corso d'opera come giustamente hai detto esattamente quindi e questo è normale perché altrimenti basterebbe sapere quel dato lì e tutti io ti do questo protocollo tu sei così ti funziona tutta la vita e andiamo avanti in realtà come giustamente dici tu uno magari ci presenta da te lo vedi in una determinata forma in una determinata composizione corporea che in un primo momento potrebbe darti qualche input iniziale per ma poi magari in corso d'opera le cose si stravolgono vedi comunque che ha una risposta assolutamente anche inaspettata hai fatto l'esempio di tuo fratello ma ce ne possono essere tanti altri e quindi alla fine quello che conta è monitorare la situazione strada facendo e apportare in base ai cambiamenti le giuste modifiche senza fossilizzarsi troppo su su queste cose qua ecco questo potrebbe essere il messaggio da passare ottimo allora ti faccio un'altra domanda che secondo me potrebbe essere molto interessante anche per chi ci sta ascoltando che riguarda un po questi approcci che adesso vengono definiti come shifting metabolici tra un macronutriente l'altro per esempio impostiamo una programmazione alimentare dove vogliamo puntare in maniera preponderante sull'aumentare quello su diciamo l'utilizzo dei glucidi dei carboidrati ovviamente avremo anche un allenamento che inevitabilmente dovrà comunque tenere in considerazione questa cosa qua quindi ci dovrà essere uno stimolo che porti poi l'organismo a far frutto di questo apporto glucidico preponderante e via via diciamo impostiamo un lavoro su quest'ottica qua arriviamo a un certo punto e troviamo anche diversi professionisti del settore ad oggi dire ok io magari imposto prima una fase di questo tipo poi dopo faccio uno shifting metabolico magari sui grassi perché io abituato troppo l'organismo a quel determinato macronutriente a quel determinato stimolo in allenamento quindi loro attraverso questo processo vanno a ridimensionare la parte allenante e a portare il soggetto a virare verso appunto l'altro macronutriente perché alla fine parliamo o di carboidrati o di grassi verosimilmente le proteine si si abbassano si aumentano leggermente però diciamo che di solito questi ragionamenti vengono fatti sempre o sui carbo sui grassi ecco volevo sapere nella tua esperienza sono metodologie o comunque ragionamenti che tu vai a non solo evidenziare ma proprio a dargli una certa importanza oppure un classico approccio magari un po più equilibrato del tipo mantengo comunque un'alimentazione che non per forza deve virare estremamente su uno di questi due fattori ma ho comunque un equilibrio maggiore non per forza devo avere fasi in cui c'è un estremismo e poi da un estremismo fatto su una cosa devo passare a un estremismo fatta sull'altra cioè il tuo approccio è magari un approccio un po più equilibrato pure anche tu vai in determinate situazioni in determinate circostanze a fare dei ragionamenti di questo tipo io ho un approccio diciamo un po più equilibrato nel senso io non sono mai un iper sostenitore delle diete low carb chetogeniche o un ultra del high carb che non vuol dire che le odio tutte e due semplicemente sono dell'idea che nel mondo della nutrizione quando sappiamo la fisiologia del corpo umano conosciamo a 360 gradi il mondo intorno alla persona su cui sto lavorando si dovrebbe capire in quella fase cosa devo fare cosa non devo fare innanzitutto sono sempre più a favore dei carboidrati perché sia perché le persone sono soprattutto il popolo italiano carbo dipendenti perché il carboidrato è molto importante per l'attività praticamente vabbè del cervello ma perché intendo questo perché quante volte noi siamo stanti stressati e cerchiamo gli zuccheri semplici la cosa dolce per diciamo tirarci su e questo vantaggio perché ci aiuta ad avere maggiore compliance al piano dietetico nella prestazione sportiva che noi parliamo di endurance che noi partiamo di sport mistiche noi partiamo di parliamo di sport di forza potenza giusto per dare tre macro aree degli sport comunque il carboidrato è quello che sempre la fa da padrone perché ci permette un'intensità maggiore anche negli sport come il triathlon non è che vince chi consuma meglio i grassi sicuramente lo shift metabolico importantissimo ma chi ha una velocità un'intensità maggiore e gli studi scientifici come bork e dieckenbruch hanno dimostrato l'intensità è data dai carboidrati alti quindi questo diciamo a livello sportivo io tengo tendo sempre ad essere a favore dei carboidrati ci sono poi situazioni ma ripeto dipende dal soggetto perché io valuto molto il soggetto situazioni in cui magari si va in una low carb magari si usa una strategia chetogenica che però nello sport io la consiglio sempre per brevissimi periodi la utilizzo proprio mai sarebbe meglio dire però ci sono situazioni in cui può tornare utile ma perché si fa per dare un input metabolico diverso può essere a livello fisiologico anche a livello mentale per fare un po vedere il soggetto stiamo facendo qualcosa di nuovo riaccendiamo un po la fiamma della passione diciamo anche perché qualsiasi strategia noi facciamo se non viene seguita non non va in porto se viene seguita così e così non va in porto e soprattutto con atleti avanzati lì dove il miglioramento è lieve ci deve essere maggiore compliance quindi dobbiamo curare molto la compliance io valuto molto per fare un approccio un po pratico supponiamo che mi viene un soggetto davanti ok cosa vuoi cosa fai sport perfetto che sport fai ok quante volte ti alleni perché se già un'alta frequenza di allenamento tendenzialmente tengo di tengo l'accento principalmente sui carboidrati c'è le diete cicliche io mi ricordo quando iniziato la professione che quasi se tu non ciclizzavi eri un animale non eri capace in realtà la dieta ciclica non ha vantaggi così prettamente superiori a una lineare dove la lineare abbiamo stesse calorie stesso comunque quantitativo di macro nutrienti al giorno dipende sempre il soggetto che abbiamo quanto si allena un soggetto che si allena sei giorni su sette ovviamente magari la lineare diventa una strategia più utile da lui da perseguire poi anche lì subentrano altri parametri che allenamento fa perché una cosa allenarsi di sei volte sul bodybuilding una cosa allenarsi invece su magari un ciclista dove ha il giorno del lungo al giorno dove si dice porta passeggio la bici quindi anche lì io vado a valutare molto sull'allenamento in base all'allenamento lo stile di vita che ha il soggetto muovo questo carboidrati grassi faccio un esempio pratico il ciclista che mi fa il giorno del lungo il giorno prima il giorno del lunga magari pongo l'accento di più sui carboidrati ma perché lo faccio per quello che vi ho detto prima perché il carboidrato sappiamo che diciamo è pro la prestazione sportiva mantiene l'intensità alta tralasciando il fatto che ovviamente dietelo caro chetogeniche nello sportivo porta un maggior rischio di infortunio porta un maggior diciamo difficoltà nell'attinenza del piano al sistema immunitario che perde la sua efficacia ma tolto questo io lo faccio proprio perché in quella giornata c'è esigenza di intensità c'è esigenza nel lungo di andare è un allenamento molto dispendioso nel giorno dove magari lui deve fare un allenamento così leggerissimo che si dice nel gergo porto in giro la bicicletta magari abbasso un po i carboidrati per non dare calorie troppo basse rialzo i grassi potrei usare uno shift metabolico del genere diciamo però non cerco mai di essere estremista grassi zero mille carboidrati carboidrati zero mille grassi assolutamente no valuto molto la situazione e anche lì perché poi pure qui ricadiamo sempre che sullo shift metabolico c'è stato un grande marketing perché c'è stato il super abuso delle diete chetogeniche poi chi praticamente ha iniziato a dire grassi zero mille carboidrati perché mi posso tirare anche a carboidrati alti che è vero ma anche togliere totalmente i grassi può portare alle sue problematiche pensiamo agli ormoni sessuali ad esempio io direi che questi shift bisogna conoscerli non essere troppo estremisti o quando si estremisti faccio un esempio della dieta chetogenica perché eventualmente c'è veramente una situazione noi che parliamo di sport dove si possa utilizzare ma nella mia esperienza io l'avrò usata veramente nello sport uno zero virgola zero 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 cinque per cento della mia pratica quindi veramente bassa io direi di valutare come sempre il soggetto che ho davanti che sportivo parliamo il suo livello la tipologia di sport come organizzata la sua settimana e in base a quello cercare di fare uno shift poi senza mai scordarsi anche della compliance perché un soggetto magari incasinato se voi gli date guarda tu questo giorno è la dieta con più carboidrati questo giorno è la dieta b con più grassi e meno carboidrati è capace che si perde perché nella pratica ne troviamo tanti che sono diciamo o con una vita molto impegnativo o comunque disordinati di loro che li fanno perdere questa compliance quindi in primis si valuta sul soggetto se è un soggetto che riesce a seguire bene la compliance dietetica non si perde se posso utilizzare questi cambi o devo diciamo stare su una strategia un po più semplice da seguire e poi gli shift metabolici valuto cosa fa durante la settimana nel senso io mi guardo la programmazione dell'atleta mi arriva una programmazione di tre settimane vedo cosa fa in queste tre settimane magari nel giorno dove l'allenamento non c'è o è una tipologia di allenamento a bassa intensità o è un allenamento comunque chiamiamolo leggero magari posso dare un po più di carboidrati e abbassare scusate un po più di grassi e abbassare di più i carboidrati questo perché lo faccio in primis per vedere cosa succede perché ci sono persone che che tu li tieni carboidrati al cest che tu questo shift non lo fai o lo fai non cambia nulla persone che invece a livello magari visivo riesce a vedere qualcosa che cambia o persone che semplicemente a livello psicologico perché il giorno che magari non si allenano non non hanno un'attività complessiva nella giornata molto dispendiosa fanno anche fatica a mangiare tutti quei carboidrati allora cosa si fa magari questo per dar un esempio pratico beh io voglio avere quelle mille otto faccio un esempio calorie in questa giornata che abbassa i carboidrati dato che fai difficoltà che li aumento con i grassi che magari si usano come condimento per insaporire un avocado in più cioè sono scelte molto sempre sul ragionamento valutando sempre il soggetto non c'è una strategia cioè non c'è sempre il devi fare così io ho visto molte volte programmazioni o persone che dicevano a un certo punto per forza devi fare così cioè per forza devi fare questo shift non è detto bisogna sempre valutare il soggetto valutare anche la sua capacità di questo shift perché non tutti abbiamo una capacità di gestire carboidrati e grassi in maniera perfetta la mia sarà diversa dalla tua sarà diversa da quella di qualcun altro e non è sempre uguale durante l'anno perché entrano appunto parametri esterni diciamo dall'attività magari che quella dello sport della nutrizione lo stress al lavoro io prima parlavo appunto della cortisolemia quando il cortisolo è alto per forza il carboidrato lo gestisco male diciamo perché l'insulina viene disturbato da questo cortisolo elevato che l'insulina è quell'ormone diciamo che mi permette di gestire i carboidrati che entrano nel mio corpo in una situazione del genere anche da valutare perché io proprio su di me vedo proprio che certe ricariche certe alzare determinate quote di carboidrati durante l'anno dove lavoro non riesco nel mese dove magari lo studio chiuso faccio un esempio quello di agosto io cambio tranquillamente il mio stile di vita queste funzionano quindi durante l'anno molto probabilmente per mantenere quelle calorie lì posso giocare più sullo shift per questo motivo durante un altro periodo dell'anno stravolgerò invece la mia strategia alimentare cioè sempre un valutare io devo conoscere quali sono i pro e i contro di fare queste questi cambi vedere il soggetto chi è e come risponde come si allena qual è la sua caratteristica genetica conviene farlo mi ha dato una risposta positiva sino e poi da lì andare a ragionare ma non è che quello che ha funzionato a settembre per forza magari mi funziona anche a maggio perché purtroppo il tempo va avanti e noi cambiamo e cambiano le cose intorno a noi per questo motivo io non ripeto non sono mai a favore degli estremismi ma del sapere il perché questo funziona qual è il suo pro il suo contro e cucirlo su quella che è la realtà che ho davanti ecco ultima domanda prima di chiudere il podcast domanda molto richiesta donne androidi e ginoidi tu come ti comporti dal punto di vista alimentare è un qualcosa che tieni in considerazione oppure no allora sì in primis gli spiego che quella è la loro struttura fisica e c'è la genetica perché ovviamente la donna è una e vuole essere la z la donna è una z e vuole essere una glielo spiego gli dico che non è uno svantaggio le rassicuro perché quello che interessa a livello estetico un corpo allenato che le gambe magari non sono così grosse come le vedono loro che le maniglie dell'amore si possono levare ma ci va soprattutto pazienza a livello alimentare in realtà io non adotto una strategia se ginoide o sei androide perché purtroppo anche lì è vero tu hai una struttura android e ginoide che non è che mi dice per forza c'è questa strategia alimentare mi può dare indizi per capire che molto probabilmente per te funzionerà meglio questo rispetto ad altro però ritorno sempre lì bisogna valutare la tipologia di allenamento come risponde a quell'allenamento lo stile di vita perché ovviamente quello è fondamentale se io ho una donna che si allena quattro volte ma sta seduta tutto il giorno risponderà in maniera totalmente diversa la stessa persona che gli inizio a dire muoviti di più tiene uno stile diverso c'è anche lì io ne tengo conto sicuramente perché a livello di allenamento di alimentazione ci possono essere degli indizi ma non delle certezze prova di diciamo qualche indizio così i primi che ti vengono in mente ma indizio ad esempio di solito si dice che carboidrati vengono gestiti male grassi vengono gestiti meglio però io l'ho veramente quasi abbandonata in situazione del genere perché non veramente entrano in gioco tanti tanti parametri io più che altro lo utilizzo per capire tu hai quella struttura fisica e devi accettare quella tua struttura fisica lavoriamo su quella ma non potremmo mai arrivare ad avere delle gambe fini se tu hai una grossa ipertrofia sulle gambe o un fisico che adesso magari a mela trasformarlo in un altro assolutamente però a livello alimentare io sono sempre sul ragionamento ce lo utilizzo molto più android e ginoide per spiegare a quella persona che di base c'è la genetica e devi accettare la tua genetica per quello diciamo perfetto dai diciamo che questo mi interessava far passare perché anche io la ragiono nel medesimo modo e quindi volevo sapere il tuo parere a riguardo e bene così allora io direi che possiamo chiudere quindi grazie mille francesco per il tuo tempo e per la tua disponibilità per i nostri ascoltatori se volessero seguire un po i tuoi lavori dove possiamo trovarti che così lascio i contatti in descrizione tutto allora grazie mille ovviamente per avermi invitato nicolò io sono principalmente attivo su instagram nutrizionista ragone mi trovate principalmente lì diciamo lì sono più attivo diciamo su quel social dai allora lascerò il link in descrizione io ragazzi se siete arrivati fino a questo punto vi ricordo che è disponibile ormai già da tempo la nostra acropoli l'acropoli invictus acropoli invictus all'interno della quale troverete diverso materiale inerenti inerente a review scientifiche articoli scritti dai nostri professionista i nostri professionisti i nostri collaboratori più stretti diversi casi studio in cui viene spiegato il percorso di atleti di diverse discipline quindi è sicuramente un prodotto estremamente interessante estremamente all'avanguardia e insomma dateci un occhio perché secondo me è qualcosa di grande valore vi lascio il link in descrizione come sempre io ringrazio nuovamente francesco e vi do appuntamento a un prossimo episodio e nel frattempo buon proseguimento con tutte le vostre attività grazie mille ancora e e e e e e e e e